L'Unione Europea sta ancora discutendo per approvare il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le misure proposte dalla Commissione includono il divieto di importazione di carbone e la chiusura dei porti europei alle navi russe. Secondo fonti diplomatiche, alcuni stati membri più dipendenti di altri dal carbone chiedono anche risarcimenti economici. C'è un dibattito sull'esclusione delle merci dal pacchetto. Alcuni eurodeputati sono contrarie alle sanzioni, così Anna Michelle Asimakopoulou del gruppo del Partito Popolare Europeo. Siamo di fronte a una guerra inconcepibile, dobbiamo esercitare la massima pressione, ciò significa sanzioni e più sanzioni e qualunque cosa serva. Allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che siamo responsabili della nostra sicurezza, della nostra energia e della nostra sicurezza alimentare, quindi non possiamo metterle a repentaglio. Tuttavia in un dibattito all'Europarlamento molti hanno chiesto di andare oltre, compreso il Presidente del Consiglio Europeo che ha affermato che prima o poi serviranno sanzioni contro petrolio e gas russi. Dobbiamo evitare le scappatoie, dobbiamo evitare qualsiasi tentativo di aggerare le sanzioni e siamo pronti a muoverci rapidamente. Abbiamo ulteriormente coordinato sanzioni solide. Il nuovo pacchetto include un divieto sull'importazione di carbone e, onorevoli colleghi, penso che prima o poi sarà necessario avere misure sul petrolio e persino sul gas. Austria, Ungheria e Germania sono tra i paesi più riluttanti a imporre sanzioni del genere. Giovedì gli ambasciatori presso l'Unione Europea terranno un nuovo incontro per cercare di raggiungere un accordo.